Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di un nuovo gioco che porterò sul canale Jurassic World Alive Allora ragazzi, vi avevo annunciato che avrei portato un nuovo gioco nell'ultimo video che avevo Infatti ho detto che avrei portato un gioco Ci gioco da una settimana e secondo me sono anche bella avanti Livello 9, questa è la mia squadra Ditemi voi come vi sembra, se sia buona, scarsa In caso datemi suggerimenti vi faccio vedere i dinosauri che ho qua Così potete dirmi se devo aggiungere qualcosa, li scrollo Bene, ora, oggi inoltre per celebrare questo evento abbiamo un ospite speciale Ciao ragazzi Josip74, così lo possiamo sfidare e massacrare Lui ci gioca da meno tempo quindi lo massacriamo malamente Ora, vediamo, io lo sfiderò con questo deck Che questi sono un tipo di dinosauro che lui odia Quindi sicuramente lo faremo impazzire Quindi lo massacriamo Ti massacrerò, è la verità Perché già ti sto mettendo dinosauri più scarsi Mi ha già sfidato, ho preparato la sfida Perché si vuole fare uccidere Eh? Si vuole fare uccidere lui Oh, come un amico questo lindio Non mi starta la partita A te è startato qualcosa? Sì, a me sì Oh, è startato, ha startato Telefono di Wish Il tuo sarà un telefono di Wish Ho capito che ci gioco da mobile Allora Beh, mi pare che c'è Clandestino, bella la mia descrizione Allora Arena 3 Nell'Arcadia combattiamo Forse sono aumentato di arena Forse sono salito Ma come? Hai 500 coppe? Non lo so E allora Ah no, questa è la mia Allora Mia Dai Però tu ti scelti Dinosauri No, io ho scelto Tutti quelli Ho scelto Quelli orde Sì, quelli orde Effettivamente si chiama Branco Si chiama orde o branco Non me lo ricordo Boh Te l'ho scelto Ti ho detto Ti avrei massacrato Perché giochi da meno tempo Ce l'hai il dinosauro Nuova in squadra? Sì, però non ce l'ho Nella Ah, peccato Dai Tu lo attacchi sempre prima E certo Un dinosauro veloce il mio Ora metto il Moros Intrepidus Lui ha fatto 198 Ma anche se Anche il problema Dinosauri di Wish Ma i tuoi sono Dinosauri di Wish Visto il fatto che con questo Oh, me ne hai ucciso uno Bravo Io almeno li prendo da Amazon Perché sono di Wish Ma stai zitto Con queste battute Ma stai zitto Con queste battute penose Ma stai zitto Tu le tue battute penose Ma stai zitto Stai zitto Con le tue battute pessime Intanto ti sto uccidendo Intanto Ma stai zitto Intanto Ma dove? Che tu Un dinosauro non me l'hai ammazzato Un dinosauro non me l'hai ammazzato Stai zitto Non da succo Non da succo Che scarso Però me l'hai ammazzato Vabbè ho capito Mi ha ammazzato il Moros Uno me l'hai ammazzato Intanto Io ti posso tirare Ti tiro Posso tirarti O lui O il preonda Va vai No Coleosaurbius Questo qua Toxic Su alive Toxic Su alive Guarda Sono un comune come te Ho due mosse Come te Uno te l'ho ucciso Questo me lo puoi ammazzare anche Danni ridotti Vabbè Se questo qua Va bene Fin qua Posso pure buttarti questo Ma guarda Io ho un'arma segreta Se non ti ammazzo con questo Ah no ti ho ammazzato Ho vinto Ho vinto Te l'avevo detto Ti avrei abbattuto Mi ho messo anche un altro Prego un datt Ma se tu non ne hai Perché non giochi mai Io gli dico Ma se tu non ne hai Perché non giochi mai Tu hai avuto L'opportuna Su wish Ma stai Loris basta Con queste battute Basta 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 Con le battute di wish E amazon Allora Io non ho capito Perché la chat lagga Oggi Ma bene Finito qua Quella del clan Io poi Ne creerò uno Allora Loris un secondo Cambio Deck Amichevole Mi sta bruciando l'orecchio Perché sento un caldo Metto O dei dinosauri Che mi piacciono Bravo E approfittane Perché io sto cambiando Deck Quindi Allora Sto mettendo I dinosauri Che mi piacciono Ti avviso Va bene Allora Spespe Allora ragazzi Vi faccio una domanda Nel frattempo Dell'attesa Qual è il mio Dinosauro preferito Secondo voi Indovinatelo Indominatelo E voglio vedere Chi indovina Del franchise Di Jurassic Park E World O comunque In generale Però Vabbè dai Lo lasciamo così Loris ti massacrerò Malamente Me l'hai inviata La battaglia Sì E allora Aspetta un secondo Che qua Sta laggando Tanto This challenge Is no longer Available Su serio Mi ha detto Oh Me l'hai inviata Mi ha scritto This challenge Is no longer Available Non lo so Che cosa c'entra Questa cosa Allora vai Questa volta Ti massacro il doppio Metti Conferma Dello Ok Allora Sconfiggi Tre creature Dai Dammi Dammi quello che penso Dimmi che mi ha dato Quello che penso Sì Sì Quello che volevo Ma mi capita Il dinosauro OP E mi capitano Questi questi No mi sono tutti OP Sono epici E poi ti diri pure Le notte Ma Non me l'hai scelto a caso No Ah Irritator G2 Contro Baryonyx Bello Perché non lo scelgo Perché non lo fai È semplice Sì Però Ti capite il critico Guarda E io ti faccio Meno tanto di te Perché il mio È proprio un epico Allora questo cos'è Io adoro il Baryonyx Alla squadra Purifica Nelidotto Ti danno Mentre Il 50% Per un attacco Io Faccio il Toxic Il Toxic Però muori Il Toxic Apatosauro Perché sono più veloce L'apatosauro è lento Sono immune al rallentamento Della velocità Quindi attaccherò sempre prima Ma ti ho ucciso Questa cosa È certo Io mi sarei dovuto Aumentare l'attacco prima Ti hai fatto molto più danno Me l'hai ucciso Bravo Ma non è che è finita qua Allora Chi devo mettere tra questi Vabbè Metto il mio dinosauro preferito Beh Così lo abbiamo rivelato Però Questa non la dovevo dire Potrei pure giocarmela Su questo attacco Puoi giocarti un bel Che fortuna Che fortuna Vabbè Ma ora muori Scusa Vabbè Allora Questo attacco Teoricamente Purifica Il vulnerabile Purifica il vulnerabile Eh no Deve avere un attacco Di priorità Per attaccare Prima Un dinosauro Più veloce E quindi Dovevi cambiare No Però Ho un asso Nella manica Cioè tu hai un asso Io ho un asso Nella manica Non mi uccide Se non mi uccide Con un colpo A questo punto È parità di livello Possiamo provare Una blu Ho un attacco precisione Balzo preciso Zec No Che fortuna Che fortuna Non è giusto No 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 Ah ti ho ridotto i danni Che fortuna Ti prego Ti prego Ti prego No Dimetrodonte gen 2 Però cambio anch'io adesso Ah ma non sapevo se si potesse cambiare Tipo il coso Più vita Se cambi Certo Se cambi il dinosauro Certo L'altro Cambi con quello che ha più vita Ma non basta Ti fa toccare Prima È giusto Perché ho detto I dinosauri veloci Mettevi il tuo raptor E poi era più veloce Eh ma ti ho detto Che dovevo massacrarti Nel video Allora Allora Continuiamo Più forte Allora Loris io ho deciso Di Secondo hit Schifo Terzo hit Schifo Quarto hit Schifo Loris io ho deciso Di Di mettere tutti i dinosauri comuni Schifo Dai Ma le ho presi tutti male Aspetta Bravo Ah non è vero 48 48 48 Tutto per il loro non è male Tutto per il loro non è male Allora io ho deciso Di mettere tutti i dinosauri scarsi E tutti i comuni E metto rex In squadra Così se mi abbatti rex Si vinci No è fortissimo Ok Loris Inviami la battaglia Inviami No ma non sono le statistiche C'è una combo di attacchi Quel sugotator Inviami la battaglia E mi è arrivata adesso Ok This challenge Is no longer available This challenge Is no longer available Ma stai zitto Queste cose di wish Allora No Quel coso In pratica Tu devi prima di tutto Tiri L'attacco che dà La ferita penetrante C'è quello là E io ho già messo pronto A me ha caricato A me no Sconfiggi tre creature Dammi rex Ti prego Ti prego dimmi Non ce l'ho ancora Non ce l'ho Allora Ma chi è che non c'è ancora Ancora quel tipo In tre partite Non ce l'ho Ah vabbè Beh selezionare una Prima che scaglie il tempo Ma non ce l'ho ancora Non ce l'ho ancora No Allora No Io ho tutte creature scarsissime Se mi ammazzi rex Poi mi suicido Però devi ammazzarmi rex Ok Ok Questa è la tua sfida Ammazzarmi rex Ma tu mi uccidi con il primo attacco No Il primo attacco non ti uccido col secondo Perché rex No Rimozione incrementi di velocità Quella utile Sai perché ti ho messo rex Così voglio vedere la tua forza Questo è l'attacco più scarso Di sto per tirare Perché mi uccide con il Perché ho attacco mentato Vedete con attacco mentato Faccio più danni Allora Io proverei Tipo buttarmelo sul muro È più veloce Sfrutta il fatto che sia più veloce È schifo È esatto quello scarso Eh sì però Però sei vivo Pignora Sfrutta il fatto Io non ti uso l'attacco priorità Non sto neanche usando l'attacco più potente Ti ho uscito rex Eh no Ma non è detto eh Senti perché non è detto Eh Dipende se è tanto Poca vita No ma potevo Sono shami Sono shami Aiuto Sono shami Allora No Mi la ammazzi lexie Mi la ammazzi Ma io ti distruggo il tarbosauro malamente Il fatto è che Ah Te l'ho ucciso con un cuore No No Se avevo l'attacco Prima No Se avevo l'attacco prima Saresti morto Perché io ho un attacco di priorità Che fa 3200 danni Ma non è il danno che c'entra Attacca prima di tutti Ok Eh sì Per quello ti ho messo rexie Per vedere se eri bravo E quasi me l'hai ammazzata Dai Ti mi scarsisco la squadra Via Tolgo pure rexie Ma non a mano ti tolgo creature Fino a che non diventerà una squadra da schifo Allora Allora aspetta Allora Aspetta che tolgo rexie Aspetta che tolgo rexie Va bene Non la tolgo Anzi si Tolgo B Meno 10% di spazio Nella memoria Del telefono Aiuto Allora Allora Aspetta Aspetta Mettiamo lui Loris Inviami la battaglia Un'altra Eh certo Mia E queste battaglie Dobbiamo fare Nel video Nel prossimo video Te la fa inviare No mi dice Appare il grigio Sulla battaglia Aspetta Perché non sei più online Mi dice Ultima volta online Meno di un giorno fa Ultima volta online Un giorno fa Ma come Non lo so Va bene E allora Facciamo un'altra Facciamo una battaglia Della campagna Per rimediare E Loris assist Gossip Commenta Allora Scambio Entrare Scambio Avviene all'inizio di un turno Le abilità passie Come scambio Con invincibilità Attivano un effetto speciale Dove ero usato scambio Ok Allora 18 19 e 20 Utilizziamo Rex Il Magiunda Boa E L'Indominus Rex Gen 2 Vediamo se la vinco La perdo Generalmente le vinco tutte Queste battaglie Se per questo Con creature di livello 13 Sono arrivato qua Generalmente uso Indominus Prima uso Non mi viene il nome Dell'abilità Vabbè Comunque ora vedete Voi stessi Allora Indominus Rex Gen 2 Contro Diplotator Allora Io uso Questa qua Schermo Non mi veniva il nome Schermo E mi paro Lui mi fa D'anima Con schiva Li paro E poi col prossimo attacco Gli tiro Questo qua Li shotto tutti Sempre Eccolo qua Morto E generalmente Questa è la tecnica Mettiamola così E non hanno mai niente Infatti muoiono tutti Perché sono scarsissimi Bot C'è la mia idea Che i bot Tu li puoi uccidere Anche con i livelli Molto inferiori Perché non hanno strategia Cioè se ti sfidi Un player normale Con questi livelli Quello in 3 secondi Sei già morto Tutti Tutti te li ha ammazzati Sì sì Invece il bot Vedete un po' È uno scarso Ora l'aquila di ass Sarà la prima Che mi uccide È il mio Però Ci rendetevi conto Impatto diversivo Non ha È scarso E ora Gli posso tirare Tranquillamente Una rex Con vendetta E tirandogli Anche questo attacco È morta Battito impavido Schiva Non è morto Perché ho schiva E perché ci sono I danni ridotti Solo per quello Non è morto Che altrimenti Già morto era 350 Non gli ho fatto niente Vuoi vedere che muoio Solo per questa gretinata Che non l'ho tirato Prima Era uccito dominante 374 Non gli sto facendo niente Brutta situazione Non mi piace Incremento attacco rimosso Sta andando malissimo Sicuramente Li distruggo Con rex Allora Purifica vulnerabile C'è una che mi purifica I danni ridotti Purifica vulnerabile No Devo tirargli questo Impatto diversivo Ancora Cioè io ho i danni a zero Adesso Ho i danni a zero E ho 35 di vita Con rexie E me l'ha negato Ci ti rendi conto Vabbè Non serve neanche Cambiare In questo momento Non conviene Neanche cambiare Allora Majunda boa Dai ti prego Ti prego Josip Non sta più commentando Eh che devi dire Commenta Sono reggi Che qua sto perdendo malamente Contro un'aquila di asto E io sono bravo 858 Contrattacco rastrellante Schivata rimossa Scudi Ottimi gli scudi Velocità diminuita Ok dai Vai col Majunda boa Lo ammazziamo con lui Vai che lo ammazziamo col Majunda boa Vai E ho vinto Alla fine è andata bene Generalmente con rexie Me la gioco fantasticamente Vabbè Abbiamo vinto Tutto è bene Quel che finisce bene Allora ragazzi Io direi che Per questo video Ci fermiamo così Vi ricordo di lasciare like Commentare Condividete Mettere l'hashtag belgioco Per ricevere il cuoricino Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao Ciao